Dopo i risultati delle altre squadre pericolanti, per l'Udinese è il momento della verità, stasera servono i tre punti per continuare a sperare. Cannavaro si aggrappa alle motivazioni per pareggiare il divario tecnico e fisico dal Napoli, Lucca, Pereira e Samarzic per provare a far male, in difesa Ferreira favorito su Cabasele. Fin dalla tenera età era appassionato di ciclismo, Stefano Iurig è assassinato sabato 4 maggio a Bicinicco, da giovane amava le due ruote, ai nostri microfoni il suo allenatore di San Giovanni al Natisone. Silvia Comelli, la 42enne autoaccusatasi dell'omicidio di Stefano Iurig, non era in possesso di patente e auto, i carabinieri indagano per chiarire come è arrivata a Bicinicco. Sabato 4 maggio scattano i controlli in Borgostazioni, in un locale etnico trovati abituali assuntori di droga, sequestrate, dosi dentro e tra i tavoli esterni e sospesa la licenza per 15 giorni. Oggi è il 48esimo anniversario del terremoto del 1976 che distrusse il Friuli da quella tragica esperienza della rinascita più forte di un popolo. Ieri si è insediato e da oggi è iniziato lo suo ministero pastorale. Monsignor Lamba dedicherà la prima settimana a detenuti, migranti e persone fragili. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il telegiornale di Udine su TV12. Oggi è una giornata importante per quanto riguarda l'udinese, apriamo infatti con lo sport. Udinese che tra poco affronterà il Napoli al Blue Energy Stadium, una partita dal sapore completamente diverso rispetto a quella che si giocò esattamente un anno fa, quando il Napoli venne qui a vincere il suo terzo scudetto con l'udinese che era ormai praticamente già salva. Questa sera all'udinese servono i tre punti per continuare a sperare nella rimonta rispetto alle squadre che non sono tanto distanti in avanti, ma in questo momento sono avanti rispetto ai bianconeri in classifica. Dunque non è ammesso un passo falso. Ci colleghiamo con Stefano Giovampietro all'esterno del Blue Energy Stadium anche per provare a capire che atmosfera si respira Stefano, perché al di là di quello che si poteva immaginare alla vigilia, dove ci si aspettava magari anche un pienone con i tifosi del Napoli presenti in gran numero, un po' il divieto di assistere alla partita per i residenti in campagna. Un po' forse anche il fatto che il Napoli non stia rincorrendo più nessun traguardo prestigioso. Ci saranno però i tifosi dell'udinese, lo stadio però non sarà tutto esaurito, almeno queste sono le ultimissime che ci arrivano. Sì, il dato preciso sapremo darlo, innanzitutto buonasera Francesco e a tutti coloro che ci stanno seguendo, lo daremo, saremo capaci di farlo a fine primo tempo, quando come di consueto il responsabile della comunicazione Jacopo Romeo ci dirà quanta è stata la punta per questo udinese Napoli. I numeri che abbiamo in mano non uffici, parlano di uno stadio che non è tutto esaurito, anche se comunque le biglietterie sono importanti e lavorano anche in questi ultimi minuti prima della partita, più di qualcuno sta staccando il biglietto in questo momento. È già il secondo petardo che esplode, comunque come spesso capita quando c'è questa partita. Hai parlato tu di tante differenze, se facciamo la contrapposizione rispetto a un anno fa è chiaro che è cambiato tantissimo perché il Napoli veniva qui praticamente a suggellare lo scudetto, c'erano tantissimi tifosi del Napoli, anche residenti in Campania, che il prefetto Domenico Lione ha invece estromesso dalla partita di oggi con un decreto che ha impedito e vietato la vendita dei italiani ai residenti in Campania e anche la cessione del titolo ai residenti in Campania. Ma al di là di questo c'è meno entusiasmo. Possiamo paragonare la partita dell'anno scorso udinese Napoli a quella che è stata qualche settimana fa, udinese Inter, perché anche lì c'era una squadra che veleggiava verso lo scudetto. E' chiaro che la stagione del Napoli è stata più che storta, malandrata, vuole chiuderla salvando la faccia, calzona e la società partenopea, però è chiaro come ha detto Cannavaro che le motivazioni dell'udinese sono più alte, oggi la squadra deve farle valere perché il Napoli è superiore in tutto il resto ma non nelle motivazioni, proprio da questa base partirà Fabio Cannavaro. Il clima è comunque, vedete alle mie spalle c'è l'ingresso della Tribuna Nord che alle 19 spaccate ha aperto i cancelli, c'era già qualche tifoso che faceva la fila, con qualche cartellone dedicato a singoli giocatori, quelli che vanno per la maggiore sono quelli di richiesta della maglia che spesso vengono accolte dai giocatori bianconeri in campo, speriamo magari in una festa finale. C'è comunque una buona presenza, non massiccia, di tifosi napoletani con sciarpe, con magliette, vessilli anche del Napoli, ma vediamo anche tanti tifosi dell'udinese che stanno sopraggiungendo e che comunque continueranno ad arrivare qui al Blue Energy Stadium, perché lo abbiamo detto, magari non ci sarà il tutto esaurito ma ci sarà comunque la cornice delle grandi occasioni, poi è chiaro che ci sono state tante casistiche, tante difficoltà, compreso il fatto che si giochi di lunedì sera, non proprio l'orario, è il giorno più comodo ma oggi nella giornata importantissima in cui verrà ricordato il terremoto, vogliono esserci tifosi dell'udinese, quelli veri, quelli che non sono mai mancati e che sosterranno oggi la squadra, ricordo tra l'altro Francesco è doveroso farlo a proposito di terremoto che appunto alle 21.00, 12 secondi si fermerà la partita, questa è la decisione che era nell'aria che vi avevamo anticipato già inizio settimana da parte della tifoseria dell'udinese, accolta dalla Lega, si fermerà la gara per un applauso e una commemorazione delle quasi mille vittime del terremoto del 1976, una ricorrenza che oggi compie 48 anni, sarà più o meno il quindicesimo di gioco, la speranza che è difficile magari che l'udinese abbia già imposto il suo ritmo alla gara perché oggi non c'è sostanzialmente un domani, chiaro è che rimarrebbe tutto aperto anche in caso di sconfitta ma l'udinese deve vincere per sparigliare le carte, per riprendere quelle squadre davanti che come hai detto tu non sono lontanissime però stanno lì e quindi al momento sarebbero salve, l'udinese no, per questo oggi c'è bisogno di ottenere il bottino pieno. Grazie Stefano per questo collegamento, dunque come dicevamo i vari divieti che il prefetto ha imposto per quanto riguarda i tifosi del Napoli chiaramente tolgono sicuramente una buona fetta di pubblico che questa sera poteva essere sugli spalti ma ci saranno senz'altro invece i tifosi bianconeri a spingere la squadra. Andiamo avanti e vediamo adesso un servizio sulle ultimissime su questa partita da una parte e dall'altra, come sappiamo Cannavaro deve rinunciare anche a Perez e Payeros, qualificati entrambi scelti obbligate per quanto riguarda il centrocampo con Zarraga e la difesa invece presenta un balottaggio, Cabasera Ferreira con quest'ultimo però favorito, vediamo. Udinese-Napoli sarà la prima delle quattro finali per la squadra allenata da Fabio Cannavaro che oggi si troverà di fronte a una delle squadre più importanti del suo passato e dovrà chiedere strada per cercare di ricompattare una classifica sempre più pericolosa. È un Udinese che deve sfruttare le maggiori motivazioni che per ovvi motivi avrà in più del Napoli che ha come ultimo compito quello di tenere una porticina aperta per l'Europa che conta di meno e per salvare la faccia dimostrando insomma di essere l'ultima squadra vista in casa contro la Roma e non la brutta copia di Empoli. Proprio quella partita è stata aspramente contestata dal pubblico napoletano che vuole vedere una squadra diversa contro un Udinese che rievoca ricordi belli per la vittoria dello Scudetto e altri brutti per gli scontri in campo avvenuti poco dopo. Per quanto possano alzarsi le pressioni alla fine in campo ci vanno i giocatori e saranno loro a dover tirar fuori una buona prestazione. L'Udinese di contro non deve rilassarsi e tenere la soglia d'attenzione altissima perché come avvertito Cannavaro sarà più difficile che contro il Bologna nonostante i quasi 15 punti di differenza in classifica. I friulani dovranno ricordarsi della partita di Monza quando il Napoli trasformò un primo tempo orrendo in un pomeriggio paradisiaco con gol di assoluta bellezza di Osimè, Politano, Raspadori e Zielinski. Questi ultimi due non ci saranno e non è un male per l'Udinese che non ci sia l'ex polacco sempre letale contro la sua squadra del passato. Calzona sarà anche orfano di Quaraschelia assenza non di poco conto che apre un buco sulla sinistra che sarà riempito. D'Angonje per la prima volta usato a sinistra i tifosi friulani lo ricordano bene nell'ultimo precedente. Suslov che crossa sul secondo palo per il gol di N'Angonje, il rovesciato, gol clamoroso di N'Angonje. Juan Jesus ha recuperato e quasi scalzato Ostigard per giocare titolare mentre in mediana spazio ancora a Cajuste. Davanti conteranno tanto le lune di Victor Rosimèna le ultime partite da giocatore del Napoli. Pochi dubbi, anzi coperta cortissima per Cannavaro, indeciso solo tra Ferreira e Cabasella in difesa con il primo favorito per fare duello proprio con N'Angonje. Davanti ancora Luca supportato da Samarzic e Pereira ma con Brenner e Devis scalpitanti per lasciare il segno come sono andati vicino a farlo a Bologna. D'altronde l'attacco è l'unico reparto per Cannavaro con tantissime opzioni alternative in panchina. C'è una salvezza da conquistare dunque, i risultati non sono stati tutti positivi, quelli arrivati dagli altri campi, il gruppone delle squadre è tutto lì con l'Udinese che è stata raggiunta momentaneamente dal Sassuolo che ha vinto a sorpresa contro l'Inter ma questa è la fase del campionato in cui le sorprese sono davvero sempre dietro l'angolo e si spera che proprio l'Udinese questa sera possa compiere un'impresa che sarebbe sì una sorpresa anche se la squadra di Cannavaro ci ha abituati in questo campionato a vincere contro squadre molto forti dunque chissà che non si prosegue su questa strada, ce l'auguriamo, ma intanto facciamo il punto sulla lotta a salvezza. Il 35esimo turno della Serie A ha portato finora in dote all'Udinese due risultati pessimi, uno così così, l'altro piuttosto buono. Si parte come al solito dalle cattive notizie su tutta la vittoria del Sassuolo che si è visto stendere un inatteso mezzo tappeto rosso dall'Inter e ha vinto 1-0 praticamente con un tiro in porta, agevolato dall'errore clamoroso di Dunfriss, più concentrato sul prendere in giro Hernandez del Milan che a giocare, e da Udero, portiere di riserva, che ha preso gol sul suo palo. Una brutta figura per i campioni d'Italia che alla prossima avranno il Frosinone che hanno portato il Sassuolo in linea con i punti dei friulani. Domenica pomeriggio è stato poi il turno del Verona che ha dovuto sudare di più ma alla fine ha superato la Fiorentina al Bente Godi 2-1. Qui resta la rabbia per l'errore arbitrale con la squadra dei direttori di gara in campo e al video che non ha visto pallo di mano che ha agevolato il gol vittoria di Noslin. Il risultato così così è arrivato a Cagliari con i sardi in vantaggio e poi ripresi dal Lecce che nel finale con l'uomo in più ha colpito due legni sfiorando la vittoria. Un successo che sarebbe stato ottimo perché avrebbe lasciato la squadra di Ranieri a 32 perché avrebbe salvato aritmeticamente il Lecce prossimo avversario. Anche se la salvezza per Godi resta una mera formalità. Risultato buono o presunto tale è arrivato a Empoli dove i padroni di casa e il Frosinone hanno optato per un patto di non belligeranza in onore della famosa e controversa frase di Buffon sui due feriti che sono meglio di un morto. 0-0 senza sussulti ed entrambe a quota 32 quelle che saranno le ultime due avversarie del campionato dell'Udinese. Crocevia sarà anche Udinese Empoli dal momento che i toscani bantano sulla carta ben inteso il calendario più complicato. Però per dirla alla Cannavaro guardare gli altri e non fare bene il proprio non serve a nulla e per questo l'Udinese deve solo pensare a battere il Napoli per rimescolare tutte le carte e ritirare nel carderone tre squadre oltre a dare un segnale forte al Sassuolo. Insomma senza punti al Blue Energy Stadium diventerebbe una scalata impervia anche se ancora non impossibile la permanenza in Serie A. E adesso andiamo a vedere un attimo la grafica della giornata perché per quanto riguarda le sorprese vediamo per esempio tra Salernità e Atalanta come sta andando 1-0 quindi anche in questo caso si profida una sorpresa anche se siamo soltanto alla conclusione del primo tempo con il secondo tempo in corso. Il risultato parziale è questo mentre Udinese e Napoli si giocherà alle 20.45 uno sguardo veloce anche alla classifica dopo 35 giornate con mezza partita da giocare ancora a Salerno e una intera qui ad Udine. Come vedete il gruppone delle squadre che lottano per non retrocedere a partire dal Verona a 34 fino a Sassuolo a 29 sono tutte lì. Il Lecce è un pochino più staccato anche se non è ancora matematicamente salvo e ricordiamo che sarà il Lecce il prossimo avversario dell'Udinese nella trentasesima giornata. E adesso voltiamo pagina e parliamo di cronaca il delitto di Bicinicco. Siamo stati oggi a San Giovanni al Natisone il paese d'origine di Stefano Iurig assassinato secondo la confessione di Silvia Comelli dalla stessa Comelli nella serata del 4 maggio, di sabato 4 maggio. Siamo andati a San Giovanni al Natisone, abbiamo scoperto che Stefano era un grande appassionato di ciclismo e il nostro Alessio Conforti ha intervistato il suo allenatore. Quando sei col tuo... Sì, mi dispiace. Marino Bon, storico allenatore della pedale manzanese, se lo ricorda bene Stefano Iurig. Nei decenni ne ha visti crescere tanti di atleti e tanti ne segue ancora. Era un ragazzo felice, contentissimo. Faceva fatica, andava bene, andava male, lui era sempre felice. Trasmetteva anche il suo umore, la sua felicità ai compagni di squadra che magari a volte erano più abiliti, che non andava bene la gara o qualcosa, ma lui la prendeva sempre con entusiasmo e faceva bene quello che faceva. Questa mattina a San Giovanni al Natisone la voglia di parlare era poca. Una comunità, questa della bassa udinese, non abituata a commentare fatti simili. Stefano non si vedeva spesso da queste parti, soprattutto ultimamente, ma il ricordo di quella promessa del ciclismo resta ancora indelebile della parte sportiva da trascinatore vincente di tante gare, ma anche e soprattutto umana. Stefano ha iniziato con me da quando aveva dieci anni. È rimasto la nostra società fino al secondo anno d'allievo. Quella volta, secondo anno d'allievo, ho riuscito a vincere un campionato regionale allievi anche. Stefano era un ragazzo, come si può dire, solare, ma era disponibile con tutti, aiutava sempre la squadra. Secondo me era anche troppo buono il ragazzo lì. Allenatore ed ex ciclista non si sentivano da tempo, ma il rapporto era davvero molto solido tra i due. Noi non avevamo tanti corridori in squadra in quel tempo lì, per cui era abbastanza personale. Da noi, almeno la nostra società, sia io sia mio zio, anche quello che poi lo ha seguito, tantissimo che si è sentito fino a pochi mesi fa. Non dico che per dire tra padre e figlio, ma insomma poco ci mancava. Faceva piacere ogni tanto vederci noi, vederci sugli allenamenti, ci vedeva ogni tanto. Aveva sempre questo bel ricordo dei suoi passati in quegli anni che ha fatto sport con noi. Quello sicuramente. Adesso facciamo un punto sulle indagini. Sono cambiate molte cose dal 4 maggio, quando una notizia all'inizio addirittura sembrava far passare la notizia, appunto che l'omicidio era maturato all'interno di una famiglia, con la moglie che aveva ucciso il marito. Poi sono cambiate ovviamente le cose, man mano che loro andavano avanti, sono raccolti tutti gli indizi necessari per ricostruire quello che era successo. Tuttavia gli indizi, le prove, le raccolte, l'arma dei carabinieri che sta indagando. Vediamo a che punto siamo. Poche certezze e ancora tanti dubbi da chiarire relativi all'omicidio di Stefano Iuriga avvenuto nella serata di sabato 4 maggio a Bicinicco. L'unica cosa certa è che a commetterlo sia stata Silvia Comello, donna di 42 anni di reana del Royale, dal momento che è stata lei stessa a chiamare i carabinieri alle 21 e 21 per spiegare ciò che aveva appena fatto. Le uniche parole che ha pronunciato i carabinieri prima di chiudersi nel silenzio più totale e di avvalersi della facoltà di non rispondere ad altre domande sono state, me l'ha ordinato Satana. E forse da qui si può partire per provare a ricostruire quanto accaduto perché Silvia Comello ha ucciso Stefano Iuriga, da quanto tempo si conoscevano e che legame c'era tra i due, come si era procurata le armi del delitto. In un primo momento sembrava si trattasse del classico omicidio passionale dettato dalla gelosia, ma questa ipotesi piano piano sembrava perdere di importanza di ora in ora con la stessa Comello che al telefono, nell'autodenunciarsi, aveva in realtà parlato di un amico o di un conoscente. Dubbi anche sulla durata del loro rapporto. La donna sostiene di averlo conosciuto al CERT poche ore prima dell'omicidio mentre alcuni testimoni raccontano che i due in realtà si conoscessero già da tempo e che anzi avessero già avuto una discussione pesante in precedenza. Misteri che andranno chiariti, come andrà verificato se magari il momento si possa collocare nell'ambito della tossicodipendenza serviranno altri riscontri scientifici anche se la donna, prima di essere stata trasferita in carcere, è stata sottoposta a test tossicologici e al momento del ritrovamento era in uno stato assolutamente confusionale. Probabilmente i due avevano programmato ad incontrarsi a casa di lui per passare la serata insieme salvo poi iniziare una violenta discussione scaturita in dieci colpi al volto inferti con un paio di forbici ed un coltello. Ma non solo, perché poi la donna ha gettato sul corpo dell'uomo anche dell'acido muriatico probabilmente trovato all'interno dell'abitazione. Stefano Iuric lavorava per una ditta per conto di fincantieri nell'ambito della manutenzione navale e si era trasferito a Bicinicco, nella casa del fratello, da circa un anno dopo la fine di una lunga relazione sentimentale. Silvia Comello invece era nota per i suoi problemi con il comune che aveva cercato di seguirla ed aiutarla attivando tutte le procedure necessarie sia attraverso i servizi sociali sia attraverso la polizia locale ma Silvia non aveva mai vinto la sua battaglia contro la dipendenza che era cominciata durante le scuole superiori rifiutando ogni tipo di aiuto. Resta tra l'altro un ulteriore mistero da chiarire la donna non aveva né auto né patente come era giunto quindi Bicinicco si pensa che ad accompagnarla sia stato lo stesso Iuric anche se qualcuno afferma di averlo visto rincasare da solo a piedi poco prima del delitto. E rimaniamo ancora sul delitto di Bicinicco per capire quanto la dipendenza da droga possa poi provocare reazioni così violente come quella di Silvia Comelli che ha ucciso Stefano Iuric. Spesso troviamo associazioni tra alterazioni mentali legate all'uso di sostanze. Il disturbo mentale, che alle volte è anche psichiatrico, può essere precedente, concomittante o susseguente all'uso delle sostanze. Le rivelazioni secondo cui Silvia Comelli, 42 anni, rea confessa dell'omicidio di Stefano Iuric avrebbe detto ai carabinieri di aver ucciso perché Satana le aveva chiesto di farlo confermano l'instabilità mentale della donna dovuta alla nota condizione di dipendenza una condizione che ha scatenato la follia omicida ma che è difficilmente prevedibile. Non ci sono indicatori precedenti, sono situazioni di, noi richiamiamo, discontrollo degli impulsi una mancanza di controllo sulle proprie azioni, sulla propria aggressività. La tossicodipendenza attiva, magari prolungata per anni, può deteriorare sicuramente aree cerebrali importanti producendo un'alterazione della realtà. Sebbene rimangono ancora oscuri il movente e la dinamica esatta dell'omicidio, il delitto di Stefano Iuric è sicuramente maturato in un contesto in cui vittima e presunta assassina avevano a che fare con problematiche di dipendenza da stupefacenti. Arena del Royale, Silvia Comelli, era nota per la sua instabilità dovuta alla condizione di tossicodipendente in cura presso il CERT di Udine e seguita da assistenti sociali, oltre che monitorata la polizia locale e servizi sociali, come ha riferito la vicesindaca reggente del comune Anna Zossi. Andiamo subito a vedere invece ad Udine la sospensione per 15 giorni dell'attività di un locale etnico in via Roma. Droga nel locale e tra i tavolini a esterni. La polizia sospende per 15 giorni la licenza di un locale di ristorazione etnica in via Roma, cuore del borgo stazione, oggetto di controlli frequenti, considerato un'area a rischio o degrado urbano. Il questore ha risposto alla chiusura temporanea per motivi di ordine e sicurezza pubblica, proprio in seguito ad uno dei controlli scattati sabato 4 maggio. All'interno del locale gli agenti avevano notato la presenza di clienti, già note alle forze di polizia, per segnalazioni in materia di droga. Uno straniero, dichiaratosi consumatore abituale, ha mostrato una dose di cocaina che è stata sequestrata. I movimenti di agenti nella zona devono poi aver consigliato altri clienti all'esterno del locale di risfarsi di altro stupefacente allontanarsi. Tra i tavolini e le sedi esterne sono state trovate alcune dosi di hashish e cocaina. Considerata la presenza di clienti abituali consumatori di droga, il questore ha ritenuto che il locale costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la sicurezza degli altri clienti e dei passanti in via Roma, molti dei quali sono giovani studenti. Infortunio sul lavoro questa mattina a Sedeiano, dove un operaio di Bertiolo a 33 anni è caduto in un tombino del gas mentre stava eseguendo lo sfalcio di una sieve. Stava portato in codice giallo in ospedale. Andiamo adesso invece a parlare dell'anniversario del terremoto 48 anni fa, l'Orcolat. 48 anni sono passati da quel 6 maggio 1976 in cui il Friuli venne devastato dall'Orcolat, il terremoto che danneggiò gravemente oltre 100 paesi nelle province di Udine e Pordenone e provocò in quei giorni 965 vittime, poi salite a quasi mille in conseguenza delle scosse di metà settembre. Alle 21 e 12 secondi la terra cominciò a tremare, con epicentro del sisma, con una manitudo di 6.4 della scala Richter, poco lontano da Gemona del Friuli. Un tremore, un boato, poi pianti, disperazione, edifici crollati, morti e feriti. Le repliche che seguirono, in particolare a metà settembre, aumentarono la devastazione non solo in termini di vite umane, ma anche per il patrimonio edilizio e l'economia. 45 comuni che vennero rasi al suolo dal terremoto, tra cui Gemona del Friuli, Venzone, Buia, Osoppo, 40 quelli gravemente danneggiati e una cinquantina gli ulteriori comuni in cui i danni furono notevoli. Oltre 100.000 le persone sfollate. Questo lunedì sera, nel Duomo di Gemona del Friuli, sarà celebrata una messa in memoria di tutte le vittime del terremoto. Un'occasione per le autorità presenti di ricordare anche la solidarietà dimostrata a livello nazionale e internazionale nel prestare i primi soccorsi alle aree terremotate e per riportare l'attenzione sulla rinascita, in poco più di 15 anni, delle zone colpite, grazie a un approccio alla ricostruzione che è stato denominato Modello Friuli. Un percorso basato sulla corale e compatta mobilitazione del popolo friulano, in testa i sindaci, la comunità ecclesiare e le forze imprenditoriali, sotto il coordinamento del commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che alcuni anni dopo il sisma fu nominato ministro per il coordinamento della protezione civile, risorsa che emerse e si ristrutturò per la prima volta in Italia, proprio nel post-terremoto del 1976. L'anniversario sarà ricordato anche nel corso della partita tra Udinese e Napoli. Alle 21 e 12 secondi le due squadre la interromperanno brevemente in segno di rispetto verso le vittime del sisma. Nel pre-gara, inoltre, i bianconeri, a fine riscaldamento, porteranno un mazzo di fiori in curva nord, in onore sempre dei morti per il terremoto. Ieri l'insediamento del nuovo arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba ad Udine. I primi momenti di incontro e conoscenza saranno dedicati alle persone che soffrono, farà visita ai detenuti, poi alla Casa dell'Immacolata, dove sono i ragazzi minori stranieri non accompagnati, e poi presenzierà ai funerali a Turrida di Sedeianoli, Don Pasquale Pressacco, già parroco di Colugna e Udine, mancato domenica. Siamo giunti al termine di questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata con TV12.